Sono 23 e fanno parte del circuito dei borghi più belli d'Italia in Abruzzo. Sono i comuni molto piccoli e per la maggior parte dell'Abruzzo interno nella provincia dell'Aquila, ma ve ne sono anche a Chieti, Pescara e Teramo. Sono i borghi più belli d'Abruzzo e continuano a crescere e migliorare grazie ad un prezioso finanziamento concesso dalla regione Abruzzo per riqualificare i centri storici. Questa mattina i 23 sindaci hanno descritto la presenza del presidente Giuseppe Di Pangrazio e gli interventi di miglioramento dei centri storici resi possibili grazie ad un finanziamento di 140 mila euro previsto dal Masterplan Abruzzo. La regione giustamente, doverosamente ha accolto questo progetto e ha concesso questo finanziamento. Non è tanto, 140 mila euro a comune, borgo più bello d'Italia e 23 sono in Abruzzo, si deve fare ancora molto di più. È un progetto che nasce dal basso, così bisogna fare quando si parla di cittadinanza attiva, qua si parla di sindaci attivi. Quindi la sussidiarietà per loro è un dato di fatto oramai compiuto e quindi la regione ne prende altro. E perché no nel futuro pensare anche a programmare delle visite con la stampa estera in modo tale da valorizzare questi 23 comuni che rappresentano non solo il loro piccolo territorio, ma rappresentano l'emblema dell'Abruzzo che è dotata di piccoli comuni che sono delle perle incastonate soprattutto nella montagna abruzzese. Antonio Limarco, sindaco di Abbateggio e coordinatore dell'Associazione per Abruzzo e Molise, ha raccontato delle buone pratiche legate al modello dei borghi più belli, sottolineando come l'unione di intenti abbia portato all'approvazione di questi importanti finanziamenti. La prima volta che una regione in Italia finanzia progetti presentati dai borghi più belli. Questo noi l'abbiamo pensato già da qualche anno fa, lo abbiamo potuto realizzare come risultato nel 2017 quando abbiamo firmato l'accordo masterplan proprio nella città di Sulmona e in quella occasione all'allora presidente, all'allora governatore abbiamo voluto anche imprimere una nostra idea di fondo rispetto a quella che è l'esigenza di ciascun borgo, cioè noi abbiamo valorizzato con questi progetti non solo l'esistente ma anche ciò che non si conosce dei borghi stessi che torneranno ad avere una loro vita, una loro prospettiva e che consentiranno anche di essere ancora più di riferimento per chi vorrà venire a visitare i borghi più belli in Abruzzo. Lo stesso di Marco chiede però un impegno concreto al futuro governo regionale attraverso l'approvazione di una legge ad hoc per i borghi abruzzesi. Un invito raccolto dal presidente di Pangrazio che ha proposto ai sindaci di mettere in campo iniziative comuni per il rilancio turistico delle aree interne dell'Abruzzo.